Signore e signori, Comandante che parla, sono davvero desolato, ma devo informarvi che dobbiamo effettuare un controllo tecnico e stiamo rientrando all'area di parcheggio, questo è assolutamente necessario. Signore e signori, Capitano, vorrei informare che stiamo tornando alla zona di parcheggio, bisogna fare un controllo tecnico e vi faccio vedere altre informazioni come possibile.